Buon pomeriggio a tutti miei cari amici dal vostro carissimo amico Giacomo Introna oggi 19 gennaio 2023 buon pomeriggio a tutti iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna condividete il video se vi è piaciuto e mettete un like buon pomeriggio a tutti dal vostro carissimo amico Giacomo Introna tempo nuvoloso fa un pochino freddo comunque la temperatura si è passata ma con questo non ci fermiamo andiamo avanti condividete iscrivetevi al mio canale oggi ho pubblicato tre video come pulire la zucca come come pulire il sedano per mangiarlo crudo e come confezionare la zucca e pulire la per bene iscrivetevi al mio canale Giacomo Introna buon pomeriggio a tutti dal vostro carissimo amico Giacomo Introna un bacio e un abbraccio a tutti buon pomeriggio ciao ciao Giacomo Introna un abbraccio a tutti buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti buono restate alle mie spalle San Giovanni Bosco dietro un bosco e io abito più avanti via nipolare ciao ragazzi